Bennalida, qualche partita è diventato un giocatore decisivo per il Pescara. Cosa è cambiato rispetto all'inizio per te? All'inizio non lo so, magari non ho fatto il ritiro con questa squadra, quindi ci volevo un po' di tempo ad adattare magari. Poi il Mist mi ha aiutato tanto, la squadra è anche un gruppo fantastico, quindi qui mi trovo molto bene, sento un giocatore importante, però ci sono altri giocatori che sono importantissimi in questa squadra. Questa partita con l'Avellino è importante dopo la vittoria di Como, nell'ultima partita a Casalinga c'era stata questa sconfitta con la Ternana, ora bisognerebbe tornare a vincere all'Adriatico? Sì, capita durante l'anno che perdi una partita, perdi due, però sicuramente abbiamo dato un segnale importante, perché abbiamo fatto una partita un po' difficile, poi sofferto tanto contro il Como, però alla fine abbiamo portato il caso tra i punti, e adesso cerchiamo di fare lo stesso coso che l'Avellino. Oggi la classifica dice play-off, ma un pensierino almeno al secondo posto, sotto sotto lo state facendo in prospettiva futuro ovviamente. Siamo capaci, siamo una squadra forte, come giochiamo noi, penso che non gioco come nessun altro. Poi dobbiamo vincere contro queste squadre, abbiamo perso contro il Ternana, però siamo tornati contro il Como, dobbiamo vincere queste partite importanti contro squadre come Cesena, Spezia che sono scontri play-off, quindi sicuramente vedremo in queste partite dove possiamo andare. Bellino, squadra ostica notoriamente difficile da affrontare, avete già parlato con il tecnico della formazione campana. Sì, abbiamo la nostra idea, poi sarà sicuramente una partita importante, è una partita tosta, è una squadra che ti attaccano, non ti fanno giocare tanto, però confrontiamo la partita come affrontiamo gli altri.